Buongiorno, l'estate è molto spesso un periodo abbastanza difficile per i mercati, storicamente è stato visto. Quest'anno l'estate probabilmente è cominciato un po' prima, a giugno, quando il presidente della Federal Reserve ha annunciato che prossimamente in un futuro indeciso, in termini di timing, la politica monetaria della Federal Reserve cambierà. Questo ha avuto un impatto immediato perché sappiamo che da qualche anno adesso la liquidità fornita dalla banca centrale americana ha probabilmente spiegato o supporto l'andamento dei mercati finanziari. Questo è il primo punto molto importante per capire il contesto attuale. La seconda caratteristica del contesto mondiale è per quanto riguarda la Cina. La Cina sta ralentando in termini di crescita. L'avevamo annunciato, questo sta succedendo a un livello che rimane abbastanza alto, ma è un fatto. Terzo elemento per caratterizzare la situazione economica attuale, la situazione in Europa, che rimane fragile, lo sappiamo, con la Grecia, con il Portogallo, abbiamo ancora delle difficoltà in termini di finanze pubbliche. Questo rimarrà, purtroppo, per qualche tempo. Sono questi tre elementi che caratterizzano la situazione economica mondiale. In questo contesto, come hanno reagito i mercati finanziari? Chiaramente, i mercati azionari non hanno apprezzato molto il game changer che è stato annunciato dalla Federal Reserve. Ma neanche i mercati obbligazionari si sono soddisfatti di questo annuncio. Dunque, entrambi hanno avuto un mese di giugno abbastanza difficile e un inizio di luglio un po' migliore. Questo spiega il passato. Per quanto riguarda le nostre raccomandazioni, rimaniamo abbastanza fiduciosi sul fatto che l'asset class da favorire rimane l'equities, l'azionario. L'azionario perché? Perché è probabilmente l'asset class la più sottovalutata, perché abbiamo la convinzione che la crescita economica ha toccato probabilmente il livello più basso recentemente e dunque che gli utili si apprezzeranno nel futuro per l'anno 2014 e 2015. Invece, per quanto riguarda le obbligazioni, lì siamo più cauti. Cauti perché pensiamo che adesso non c'è molto rendimento da aspettare, soprattutto sui corporate bonds, rispetto ai Goviz. E in finale, rimaniamo abbastanza fiduciosi sul fatto che il dollaro dovrebbe apprezzarsi contro l'euro entro la fine di quest'anno. Ecco globalmente il nostro scenario e le nostre raccomandazioni che volevamo condividere con voi. Grazie mille per la vostra attenzione. Grazie mille.